Gentili telespettatori, buona giornata. Fa un po' sorridere quello che vi racconto. Il governo all'unanimità vota il super green pass, cioè il lockdown per i non vaccinati. Quindi, pertanto il governo mette ai margini i no green pass, i no vax, quelli che non vogliono sentir parlare di certificati, di vaccinazione. E poi si scopre che un partito di maggioranza che ha votato, assieme a tutti questi provvedimenti, perché si parte dal green pass, il super green pass e le zone gialle, cioè un partito di governo come la Lega che ha nel tempo votato, sia nel Consiglio dei Ministri sia in Parlamento, tutte queste leggi, quindi le reputa giuste, Poi, quando deve fare e programmare un'assemblea, che era stata convocata da Salvini l'assemblea della Lega l'undice e il dodici dicembre a Roma, non si può fare perché è pieno di no green pass e di no vax. Salvini dice che non possiamo convocare mille persone in questo periodo, ma non avrebbe potuto partecipare chi è supposizioni no vax e no green pass. Supposizioni. Beh, caro Salvini, non puoi fermare l'attività del tuo partito. Tu convochi l'assemblea, chi può entrare entra, chi non può entrare si collega via computer. o se non vuoi che si collegano via computer, gli dici o vi vaccinate o non entrate. E fai saltare la tua assemblea che avevi già stabilito per parlare del futuro della Lega, del prossimo anno, eccetera, eccetera, e la cancelli perché capisci che sono molti i no vax e i no green pass nel tuo partito? E' un po' una decisione curiosa, o le motivazioni sono altre. Ma l'assemblea viene annullata. 11-12 dicembre a Roma viene annullata. Dicono che è il primo caduto del super green pass e delle nuove restrizioni adottate dal governo. E come vi dicevo, paradossalmente colpisce proprio il partito che aveva manifestato forti perplessità l'introduzione del certificato rafforzato anche nelle zone bianche. Sapete che ieri c'è stato tutto quel casino, Salvini che aveva detto nessuna restrizione. Beh, certo che se questo partito ha un capo che 48 ore fa diceva io sono contro qualunque tipo, qualunque tipo di restrizioni su chiunque. La posizione è ben precisa, no? Contro le restrizioni verso chiunque. E' chiara come posizione. Solo che dopo qualche ora fa una foto sorridente con i governatori sono convinto con loro che bisogna fare le restrizioni per 8 milioni di italiani che non si vaccinano. Come tu eri contro qualunque tipo di restrizione adesso sei a favore di restringere la libertà di 8 milioni di persone. Dici, ma che serietà è questa? Poi il giorno dopo c'è la firma in Consiglio dei Ministri e dici, non faccio ritiro i ministri, siamo per il no. Poi ti telefona Draghi Sì signore, siamo per il sì. Ma, insomma, che razza di... Che roba è? Non ho neanche le parole, ma che roba è una cosa così? Che roba è? Naturalmente in un partito dove vi dico che roba è un capo politico che dice sì, no, sì, no, quattro volte in 24 ore come vi dicevo l'altro ieri una media di cambio d'idea ogni sei ore e capite che all'interno c'è il caos non c'è una linea comune perché se tu vai a chiedere a un politico della Lega Salvini è a favore o contro il Green Pass e il Super Green Pass ognuno vi dirà quello che più gli fa piacere no, io so che lui è contro e l'altro vi dirà no, lui è a favore fa finta di essere contro pertanto nella Lega ognuno si sente legittimato dal Salvini che vuol vedere dice, a me piace il Salvini che dice no Green Pass e l'altro dice no a me piace quello che dice sì perché ha detto sì e l'altro dice no, ha detto no e così all'interno della Lega sono legittimate è legittimato qualsiasi tipo di idea su tutto tanto il capo politico dice sì no forse in accordo con Giorgetti ufficialmente l'appuntamento del di dicembre che è stato lanciato a inizio novembre da Matteo Salvini dopo lo scontro con Giancarlo Giorgetti che andava in giro a denigrare il suo capo anche questo è fantastico il numero due che andava in giro a denigrare il numero uno anche questo qui è inascoltabile una roba del genere Salvini che permette a Giorgetti ancora di essere il numero due io se fossi stato in Salvini Giorgetti lo avrei degradato guarda non sei più il vice non fai più parte della Lega vuoi continuare a fare il ministro? io non te lo posso impedire fallo stai lì? fallo ma tu non sei più della Lega non sei più un ministro della Lega ecco e invece no Salvini per contrastare Giorgetti fa l'assemblea programmata l'11 e il 12 dicembre che era anche un'occasione di confronto interno dovevano partecipare sia i parlamentari italiani che gli europarlamentari consiglieri regionali sindaci consiglieri comunali oltre mille persone per mettere a punto il programma per il futuro è così Salvini dice però non è il caso di radunare così tante persone hanno posizioni magari diverse ma c'è chi legge un qualcosa di diverso a qui dentro dice è pretestuoso questo annullamento è una scelta obbligata alla luce di una fetta di esponenti del partito difficile da quantificare che non sarebbe in condizioni di mostrare un super green pass del resto non è un mistero che dentro la lega ci sia una corrente di pensiero che condivide le posizioni no vax e no green pass ed è stata proprio questa componente a far presente al segretario che con le regole varate dal governo non potevano partecipare all'appuntamento e qui la decisione di rinviare tutto a tempi migliori e beh anche questa ve l'ho raccontata e poi molti di voi dite ma tu odi Salvini io non è che odio Salvini è Salvini che odia se stesso nel senso che come si fa a parlare bene di un politico di questo tipo oggi non si può sarebbe mentire a voi e a me stesso arrivederci a tutti e grazie